Romani, capitolo 3, questa mattina dal versetto 21 fino al 31. Apostolo Paolo che scrive, ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono, infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza. E per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché Egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede. Poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei Giudei? Non è Egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No di certo. Anzi, confermiamo la legge. Questa mattina vedremo dal versetto 27, proseguiamo, fino al 31. Per due domeniche abbiamo visto questi versetti dal 21 al 26. L'Apostolo Paolo che ha parlato della giustificazione. In che modo l'uomo può essere riconciliato a Dio? In che modo l'uomo può riconciliarsi a Dio? Paolo ha presentato per molti versetti dal capitolo 1, versetto 18, fino al versetto 20 del capitolo 3, ha presentato la condizione spirituale di tutti gli uomini. Paolo ha affermato che non c'è nessun giusto, Romani 3, 10, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Questa è la condizione dell'intera umanità. Non c'è nessuno. E dal versetto 21 abbiamo visto che Paolo ha iniziato questa nuova sezione dedicata proprio alla salvezza. E qui Paolo mostra in che modo colui che è ingiusto può essere dichiarato giusto davanti a Dio. Perché tutti gli uomini sono colpevoli davanti a Dio, Romani 3, 19, tutti. Nessuna scusa. In che modo può l'uomo essere quindi giustificato, dichiarato giusto davanti a Dio? In che modo può essere salvato? Paolo ci ha mostrato per prima cosa che la giustificazione è gratuita ed è per sola grazia, dal 21 al 24. Giustificati gratuitamente per sola grazia. Infatti ci ha insegnato l'Apostolo Paolo attraverso questa lettera, questi versetti, che è la giustificazione grazie alla redenzione che è in Cristo. Ecco in che modo possiamo essere dichiarati giusti attraverso la redenzione che in Cristo Gesù abbiamo scoperto e compreso che cosa significa questa liberazione dalla schiavitù del peccato grazie all'opera di Cristo. Cristo ha pagato il prezzo per liberare noi, per liberare noi dalla schiavitù del peccato. E in che modo Cristo Gesù ci ha liberati? In che modo questa giustificazione gratuita, l'abbiamo visto la scorsa domenica, mediante il sacrificio propiziatorio di Cristo. Grazie al suo sacrificio propiziatorio abbiamo compreso cosa significa propiziatorio. In Esodo 25, il Levitico 16, abbiamo letto che il propiziatorio era questo coperchio che copriva l'arca del patto. Dentro l'arca c'erano le due tavole della legge. E i sacerdoti, il sommo sacerdote, una volta all'anno aspergeva questo propiziatorio con il sangue. E lo scopo era questo, Dio che appariva sopra il propiziatorio, la sua presenza era sopra, guardava il sangue anziché guardare le tavole della legge, anziché guardare i peccati commessi dal popolo, guardava il sangue che copriva i peccati e che così placava l'ira di Dio per il perdono dei peccati. Cristo Gesù è il sacrificio propiziatorio. Cristo, mediante la sua morte e il suo sangue, placa l'ira di Dio verso di noi ingiusti. Ecco in che modo è possibile la giustificazione. Ecco in che modo Cristo ha pagato il prezzo per il nostro riscatto attraverso il suo sacrificio. Ha placato l'ira di Dio. Ecco perché la giustificazione è per grazie, gratuitamente. Abbiamo visto diversi brani, le scorse domeniche, 2 Corinthians 5, 21 per esempio, dove vediamo che Dio ha imputato i nostri peccati a Cristo. Lui punito per i nostri peccati. Isaia 53. Gesù che è morto per i nostri peccati. E poi Dio ha imputato la perfetta giustizia di Cristo a noi. Noi oggi siamo dichiarati giusti perché Cristo è stato punito al posto nostro. Perché Cristo è stato punito al posto nostro. Ecco in che modo è possibile la giustificazione. Ecco in che modo Dio ha manifestato la sua giustizia attraverso Cristo Gesù. Mediante la fede in Cristo Gesù. Grazie alla fede in Cristo che riceviamo questa giustizia. Grazie alla fede in Cristo. Abbiamo visto in questi versetti in che modo abbiamo visto è possibile essere giustificati mediante il sacrificio di Cristo Gesù. Abbiamo visto qualcosa di importante però nel versetto 25. Che il sacrificio propiziatorio non solo manifesta la grazia di Dio per la nostra salvezza, ma manifesta la giustizia di Dio. Manifesta la sua giustizia perché Dio è stato paziente, tollerante verso i peccati commessi prima della morte di Cristo. Prima della sua morte Dio ha tollerato i peccati in vista poi del sacrificio di Cristo. Questo è quello che è accaduto. Dio ha pazientato, Dio è stato paziente e misericordioso, ma con la crocifissione di Cristo è lì che ha manifestato la sua giustizia. Dio è giusto, Dio giudica il peccato e ha giudicato il peccato attraverso proprio il sacrificio di Cristo. Ecco in che modo manifesta la sua giustizia ed ecco perché Dio può giustificare noi ingiusti. In che modo Dio può giustificare lui essendo giusto noi che siamo ingiusti? Solo grazie al sacrificio propiziatore di Cristo Gesù. Ecco perché siamo giustificati pur essendo colpevoli, perché Cristo è morto dal posto nostro. Lui giusto per noi ingiusti per condurci a Dio. Prima Pietro 13.8 Lui giusto per noi ingiusti per condurci a Dio. Voglio mostrarvi alcuni versetti in ebrei, velocemente alcuni versetti in ebrei, capitolo 9. La pazienza di Dio per quanto riguarda i peccati dell'Antico Testamento. Specificamente dei santi dell'Antico Testamento. Ebrei 9 qui parla dei sacrifici del Sommo Sacerdote che deve entrare nel Lugo Santissimo in questi primi versetti del capitolo 9 per aspergere il propiziatorio con il sangue. Vediamo che al versetto 9 l'autore dice questo. Questo, tutto questo che faceva il Sommo Sacerdote, è una figura, ebrei 9.9, è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono quanto la coscienza rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande, di varie abluzioni, insomma, di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Qui parla di quello che accadeva nell'Antico Testamento. Versetto 11. Infatti, se il sangue di capri, di tori e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano in modo da procurare la purezza della carne, qualcosa di esteriore, quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno frì se stesso puro di ogni colpa a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per salvire il Dio vivente. Per questo, Egli è mediatore di un nuovo patto. La sua morte è avvenuta per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto. l'Antico Testamento. Affinché i chiamati ricevano l'eterna eredità promessa. È morto Cristo Gesù, vedete, per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto. Ecco in che modo erano salvati in vista della morte di Cristo. Ma Dio ha appazientato in tutti quegli anni fino a quando Cristo Gesù è morto. Ha tollerato. Dio nella sua grazia è tollerato. per poi mandare il suo figlio per morire e per redimere dalle trasgressioni commesse sotto il primo patto. Capitolo 10, versetto 1. Ascoltate cosa dice qui l'autore. La legge infatti possiede solo un'ombra dei beni futuri, non la realtà stessa delle cose. Perciò, con quei sacrifici che sono offerti continuamente, anno dopo anno, essa non può rendere perfetti coloro che si avvicinano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, se coloro che rendono il culto una volta purificati avessero sentito la loro coscienza sgravata dai peccati. Invece, in quei sacrifici viene rinnovato ogni giorno il ricordo dei peccati, perché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Versetto 11. I santi dell'Antico Testamento erano salvati in vista del sacrificio di Cristo. I loro peccati erano stati tollerati fino poi a quando Cristo è morto per redimere i loro peccati, le loro trasgressioni. Perché quei sacrifici non potevano mai togliere i peccati. Vedete, era qualcosa di temporaneo. Dio ha tollerato, per anni ha tollerato i peccati, fino a quando ha mandato il suo figlio come sacrificio propiziatore. Ed è grazie al sacrificio di Cristo che i santi dell'Antico Testamento sono credenti, sono salvati, scusate. Infatti, in Ebrei 11, 40, l'autore dice, perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che loro non giungessero alla perfezione senza di noi. Cosa intende? Questa salvezza completa e perfetta. Noi oggi beneficiamo di questa salvezza completa e perfetta perché Cristo Gesù è morto circa duemila anni fa per i nostri peccati. Questa completezza di cui loro non beneficiavano, questa coscienza sgravata. Ritornando nei Romani 3 abbiamo visto che Dio ha tollerato i peccati commessi sotto il primo patto, ma attraverso il sacrificio propiziatore di Cristo ha manifestato la sua giustizia. Dio è giusto e giudica il peccato e Dio giustifica l'ingiusto, proprio motivo del sacrificio di Cristo, proprio motivo del sacrificio di Cristo, questo sangue di Cristo versato per la nostra redenzione. Ecco in che modo è possibile la giustificazione per grazia, mediante la redenzione che è in Cristo. Questa mattina proseguiamo al versetto 27 fino al 31, perché qui l'Apostolo Paolo si focalizzerà proprio sulla giustificazione per sola fede. Questi sono versetti cruciali. Qua ancora una volta vediamo il cuore del Vangelo. Abbiamo già visto la giustificazione gratuita per grazia? Abbiamo visto che la giustificazione è per mezzo del sacrificio propiziatore di Cristo? E ora vediamo che la giustificazione è solo per fede, per sola fede. Vedremo che cosa significa. Iniziamo dal versetto 20. L'Apostolo, dopo aver parlato della giustificazione per fede in Cristo, grazie alla redenzione che è in Cristo, grazie al suo sacrificio propiziatore, Paolo dice, dov'è dunque il vanto? Dov'è il vanto? Dov'è il vanto per quanto riguarda questa giustificazione per fede? Dov'è il vanto? E risponde, esso è escluso. Non c'è nessun vanto per quanto riguarda la giustificazione. Nessun vanto. Nessun uomo può vantarsi della salvezza che ha ricevuto. E poi aggiunge, Per quale legge? Per quale legge esso è escluso? Per quale legge è escluso questo vanto? Delle opere? La risposta è questa. No, ma per la legge della fede. Per la legge della fede. La giustificazione è solo per fede. E questa fede esclude qualsiasi vanto da parte degli uomini. L'uomo non ha nessun merito per quanto riguarda la giustificazione. Infatti Paolo aggiunge al versetto 28 la spiegazione. Perché? Attraverso la fede, mediante la fede, è escluso il vanto. Poiché, 28, Riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Ricordiamoci il contesto in cui ci troviamo. Giudei. I giudei che pensavano di essere giusti grazie al fatto che avevano ricevuto la legge. E si vantavano della legge. E accusavano e criticavano i gentili. E Paolo ha già mostrato che anche loro sono ingiusti. Che anche loro hanno bisogno di salvezza, di riconciliazione. Non c'è nessun giusto, neppure uno. E Paolo qui mostra che l'uomo è giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. L'uomo non può guadagnare la salvezza. Non può meritare la giustificazione. Il vanto è escluso. L'uomo non ha nessun merito. L'uomo non contribuisce alla salvezza. Ma la riceve gratuitamente per fede in Cristo. Infatti in Romani 4, 5 vedremo che Dio è colui che giustifica l'empio. Dio non ha giustificato qualcuno che era predisposto, più benevolo, più capace, più saggio. Dio ha giustificato per fede l'empio. L'empio. La fede esclude qualsiasi vanto. Qualsiasi vanto da parte dell'uomo. Ora sapete, questi versetti contrastano in modo categorico il Vangelo predicato dalla Chiesa Cattolica Romana. Questo Vangelo che Paolo sta presentando contrasta in modo categorico quello che insegna il Cattolicesimo. Vorrei citare alcune affermazioni da parte della Chiesa Cattolica Romana per chiarire che il Vangelo predicato da Paolo non è il Vangelo che predica e insegna la Chiesa Cattolica Romana. È importante chiarire ciò. È importante, fratelli, evangelizzare i cattolici. Sentite quello che afferma il Catechismo. Quattro citazioni. La prima è questa. La giustificazione è accordata mediante il battesimo, sacramento della fede. Grazie al battesimo che c'è la giustificazione, la battesima dei neonati. Seconda citazione. La grazia dello Spirito Santo ha il potere di giustificarci per mezzo della fede in Gesù Cristo è mediante il battesimo. Non è sufficiente la fede in Cristo ma è necessario il battesimo per essere giustificati. Oppure, la Santissima Trinità dona al battezzato la grazia santificante, la grazia della giustificazione. Oppure, il sacramento della penitenza offre una nuova possibilità di convertirsi e di recuperare la grazia della giustificazione. La penitenza lo scopre di convertire o di recuperare la grazia della giustificazione, la penitenza. Altra due citazioni del Concilio di Trento. La prima è questa. Ascoltate bene. Per completare la salutare dottrina della giustificazione, è sembrato logico trattare dei santissimi sacramenti della Chiesa, mediante i quali ogni vera giustizia ha inizio o viene aumentata, se è già iniziata o è recuperata, se è perduta. La giustificazione ha iniziato. La giustificazione si aumenta o si recupera grazie ai sacramenti. Questo è quello che afferma la Chiesa Cattolica Romana. Oppure, ultima citazione. Se qualcuno afferma che la giustizia ricevuta non viene conservata e nemmeno aumentata dinanzi a Dio con le buone opere, ma che queste sono solo frutto e segno della giustificazione ottenuta, e non anche causa del suo aumento, sia natema. Se è condannato colui che crede che la giustificazione è ottenuta per fede e che le opere sono il frutto, questo è quello che crediamo noi, ma quello che invece credono loro, che insegnano, è che la giustificazione viene aumentata grazie alle buone opere. Le buone opere sappiamo che sono il frutto dell'opera salvifica, non il mezzo per essere giustificati. Ora questo è importante, comprendere che il Vangelo dell'Apostolo Paolo contraddice in modo categorico quello che insegna la Chiesa Cattolica Romana, che presenta questa giustificazione per opere. Grazie alle buone opere, grazie alla penitenza, grazie al battesimo, è possibile non solo iniziare questa giustizia, ma aumentarla o recuperarla se perduta. Questo è un falso Vangelo. È importante proclamare il Vangelo di Cristo che troviamo nelle Sacre Scritture. Volevo che fossimo a conoscenza di questa differenza radicale. Paolo in questi versetti vuole enfatizzare che la giustificazione è per sola fede, non c'è nessun vanto da parte dell'uomo. Non è fede in Cristo più battesimo o più opere, solo la fede in Cristo, il mezzo per ricevere la giustificazione, per essere salvati, per fede. In questo momento vorrei fare una piccola parentesi importante che riguarda la fede, perché Paolo parlerà di fede anche al capitolo 4, al capitolo 5, e più volte vedremo questo termine fede, giustificazione per fede, giustificazione per fede che esclude qualsiasi vanto, qualsiasi merito da parte dell'uomo. La fede in questi versetti non è il mezzo che contribuisce alla salvezza, non è il mezzo mediante il quale l'uomo contribuisce alla salvezza. Purtroppo oggi si parla di salvezza e si descrive la salvezza in modo confuso. Per esempio, qualcuno descrive la salvezza in questo modo. La salvezza è una combinazione di due azioni volontarie. Dio offre la salvezza e l'uomo poi crede, attiva questa fede dentro di sé, affinché possa così giungere alla salvezza. In altre parole, Dio fa la sua parte e l'uomo fa la sua parte. Non è affatto questo il messaggio del Vangelo. La giustificazione per fede esclude qualsiasi vanto, qualsiasi merito da parte dell'uomo. Sì, la fede è la condizione per essere giustificati. Non c'è salvezza senza fede. È la condizione per essere giustificati, ma non è il mezzo per contribuire alla salvezza. Due cose che vorrei indicare questa mattina. Una parentesi che riguarda proprio la fede, di cui parla l'Apostolo Paolo, perché parlerà di fede. Dobbiamo capire di quale fede sta parlando l'Apostolo Paolo, giustificati per sola fede. Di quale fede? Due cose fondamentali. La prima è questa. Qual è l'origine di questa fede? Questa fede di cui parla l'Apostolo Paolo, questa fede salvifica, è di origine divina. È di origine divina. I Romani 1,6, abbiamo già visto due domani che fa, ho già accennato qualcosa riguardo a questo. Romani 1,6, quando parla della fede, Romani 1,5, la predicazione, Paolo ha ricevuto questo apostolato per predicare il Vangelo affinché si ottenga l'ubbidienza dalla fede fra tutti gli stranieri per il suo nome. Versetto 6, farei quali siete anche voi chiamati da Gesù Cristo. Abbiamo visto già due domani che fa che questa fede origina da questa chiamata. La chiamata di Gesù Cristo qui non è la chiamata generale rivolta a tutti gli uomini? Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. È una chiamata specifica, speciale, efficace, interiore, Dio che apre cuori. Infatti il Romani 8, il Romani 8, il versetto 30, quando parla di chiamati, dice questo, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. Questa chiamata non è quella generale perché Dio non giustifica l'intera umanità. Dio chiama tutti gli uomini a ravedersi, ma poi Dio chiama specificamente, e coloro che Lui chiama giustifica. Quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. Versetto 28, vediamo che quelli che amano Dio sono quelli che Dio ha chiamato secondo il suo disegno. Non tutti amano Dio. Chi ama Dio è colui che è stato chiamato. Ecco, chi crede è colui che è stato chiamato da Dio. Alcuni versetti, alcuni versetti questa mattina proprio per capire e chiarire di quale fede salvifica l'Apostolo Paolo parla. Giovanni 6, solo alcuni versetti, Giovanni 6, Giovanni capitolo 6, in questo brano leggiamo quello che Gesù ha compiuto, ha moltiplicato i pani per migliaia di persone. Giovanni 6, 35, ha moltiplicato i pani per migliaia di persone. Versetto 35 dice questo. Quindi quando dice chi viene a me, chi crede in me, sono la stessa cosa. Chi viene a me vuol dire chi crede in me. Chi viene a me non avrà più fame. Chi crede in me non avrà mai più sete. Quindi venire a Cristo, andare a Cristo vuol dire credere in Cristo. Ascoltate quello che dirà versetto 37. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me. Chi sono coloro che vanno a Gesù, che credono in Gesù? Coloro che il Padre dà a Gesù. E poi dice questo. E colui che viene a me, che crede in me, non lo caccerò fuori. Perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato. Che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Quindi qui comprendiamo che quelli che vanno a Gesù e andare a Gesù, vuol dire credere in Gesù, sono coloro che il Padre dà a Gesù, che chiama. Ed ecco perché la certezza è la salvezza. Perché quelli che il Padre dà al Figlio, sono coloro che il Figlio conserva, protegge e risusciterà nell'ultimo giorno. La certezza della salvezza è grazie al fatto che il Padre ci ha dato il Figlio. Noi siamo un dono che il Padre ha fatto il Figlio. E sentite quello che Gesù disse a Giovanni 6,44. Infatti, nessuno può venire a me se non la tira al Padre. O Giovanni 6,65. Quindi qui cominciamo a comprendere che coloro che vanno a Gesù, che credono a Gesù, corrispondono a coloro che Gesù ha chiamato, che il Padre ha dato a Gesù, che il Padre ha attirato a sé, che gli è dato dal Padre. Ecco chi sono coloro che vanno a Gesù. Quindi, fratelli, la fede che i credenti hanno, la nostra fede, non è qualcosa che noi abbiamo attivato dentro di noi. Non è qualcosa che noi abbiamo attivato dentro di noi, nella nostra capacità e saggezza. Perché Paolo, in Romani 3, ci ha mostrato che non c'è nessun giusto, neppure uno. Nessuno che capisca, nessuno che cerchi Dio. Come può colui che non capisce le cose spirituali, che non cerca Dio, attivare questa fede? Questa fede è di origine divina. È il frutto dell'opera di Dio. Ora vorrei leggere alcuni versetti ancora, un po' di pazienza questa mattina, per chiarire il significato di questa fede importante. Alcuni versetti, per chiarire ciò. Filippesi 1,6. Filippesi 1,6. Filippesi 1,6. L'Apostolo Paolo gioisce a motivo dei filippesi, a motivo della loro partecipazione al Vangelo. E poi dice questo, Filippesi 1,6. Paolo prega con gioia per loro, per la loro partecipazione al Vangelo. E poi dice, e ho questa fiducia, e ho questa fiducia. Che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Colui che ha cominciato un'opera buona, e qui parla di salvezza. Fratelli, Dio non ha offerto la salvezza, Dio ha iniziato la salvezza. Dio ha operato la salvezza, ed è Lui che la porta a compimento, e la sua opera, qua dice, ha cominciato un'opera, e la condurrà a compimento. Se giriamo la pagina 1,29, dirà questo. Perché vi è stata concessa, 1,29, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere a Lui, ma anche di soffrire per Lui. Vedete, la fede, credere è il frutto della grazia di Dio. Se noi oggi crediamo, è perché Dio ci ha concesso la grazia di credere, perché Dio ci ha concesso la grazia di credere, e anche di soffrire. Efesini 2,8, Efesini 2,8. Salvezza per grazia, infatti per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, ascoltate bene, ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Quel ciò si riferisce a tutta questa frase, salvezza per grazia, mediante la fede. Anche la fede non viene da noi. Grammaticamente nel testo greco non vado nei dettagli. Quel ciò si riferisce a tutta la frase precedente, è neutro. Si riferisce a tutta la frase. La fede è un dono, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne avanti. Dio ci ha concesso la grazia di credere, è un dono di Dio. Seconda Pietro, 1,1. Seconda Pietro, 1,1. Sentite quello che disse Pietro. 1,1. Seconda Pietro, 1,1. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. A coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra. Abbiamo ricevuto questa fede che è preziosa quanto la fede dell'Apostolo Pietro, dell'Apostolo Paolo e di tutti gli altri apostoli. E sapete, non solo la fede è frutto della grazia di Dio, ma anche il ravvedimento, il pentimento. Seconda Timotio, 2,25. Seconda Timotio, 2,25. Questa mattina vediamo molti versetti, questa parentesi importante riguarda la fede. Seconda Timotio, 2,25. Iniziamo dal 24. Paolo che istruisce Timotio, come agire nei confronti di chi si oppone a Cristo. Il servo del Signore non deve litigare, ma deve essere mite con tutti, capaci di insegnare paziente. Deve istruire con mansuettudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità, in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che li aveva presi i prigionieri perché facessero la sua volontà. Qua dice nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi. Il ravvedimento è una concessione che Dio ci ha donato. È una sua concessione. Questa fede è di origine divina, frutto dell'opera di Dio. Ed ecco perché in Ebrei 11, 1 leggiamo che la fede è certezza, è certezza di cose che si sperano, è dimostrazione o letteralmente convinzione di realtà che non si vedono. Come essere convinti di realtà che non si vedono? Come essere convinti? Come può essere la fede certezza di cose che si sperano solo se è qualcosa che Dio ci ha donato? Solo se è frutto dell'opera di Dio? Ancora due versetti che chiariscono qual è l'origine di questa fede. Due versetti. Giovanni, capitolo 1. Vangelo di Giovanni, capitolo 1. Giovanni, capitolo 1. Versetto 10 dice Versetto 12 Chi sono coloro che credono nel suo nome? Chi sono coloro che credono nel suo nome? I quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio. Coloro che credono non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio. Sono coloro che Dio ha rigenerato che hanno fede. La fede che noi abbiamo in Cristo, diante la quale siamo stati giustificati, è il frutto dell'opera di rigenerazione. L'ultimo versetto, prima Giovanni, prima Giovanni 5, prima Giovanni 5, prima Giovanni 5. Sempre l'apostolo Giovanni, questa lettera che sta scrivendo ai credenti per incoraggiarli, a motivo della presenza di anticristi, persone che sono uscite dalla chiesa. Versetto 13, vediamo lo scopo di questa lettera. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figlio di Dio. Vuole incoraggiarli. E sentite cosa dice al capitolo 1, al capitolo 5, scuola del versetto 1, capitolo 5. Versetto 1 del capitolo 5. Chiunque crede che Gesù è il Cristo, il credente, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, è stato rigenerato da Dio. Così come colui che ama Dio, capitolo 4, versetto 7, colui che ama è nato da Dio, non è possibile amare come Cristo ci ha amati senza prima essere rigenerati, così non è possibile credere che Gesù è il Cristo se Dio non ci ha prima rigenerati. Abbiamo compreso attraverso questi versetti, pochi versetti, alcuni versetti della scrittura, che la fede di cui parla l'apostolo Paolo, la fede biblica, la fede salvifica, non è il frutto di una decisione umana, non è qualcosa che noi abbiamo attivato nella nostra capacità, ma è il frutto della chiamata di Dio. Dio ha aperto il nostro cuore, Dio ci ha rigenerati, e di conseguenza abbiamo questa fede e il ravvedimento, il pentimento, questa fede di origine divina. Secondo aspetto di cui voglio parlare, prima di proseguire, quali sono i segni distintivi di questa fede salvifica? Quali sono i tratti distintivi di questa fede salvifica? Viviamo in un contesto oggi evangelico, dove la fede è semplicemente una professione. Se professi di credere, sei aposto, hai creduto. Ora è importantissimo professare la fede, ma la fede salvifica si manifesta attraverso dei segni distintivi, tratti distintivi che evidenziano qual è la fede salvifica, e che mostrano e evidenziano chi è il credente. Gesù stesso dirà, ha detto anzi in Matteo 7,21, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà, non colui che professa, ma chi fa la volontà del Padre mio. Quindi è importante capire che la fede dei credenti, questa fede salvifica di origine divina, la seconda cosa ha dei tratti distintivi, e vorrei elencare velocemente perché non abbiamo il tempo, tratti distintivi di questa fede salvifica, e utilizzerò la prima lettera di Giovanni. Questa prima lettera di Giovanni che ha lo scopo di incoraggiare i credenti affinché sappiano che hanno la vita eterna, e come li incoraggia? Mostrando cosa significa avere fede salvifica, mostrando cosa significa essere credenti in Cristo. e vi elenco queste caratteristiche che trovate in questa lettera. Il primo segno distintivo, il primo tratto distintivo è la confessione dei peccati, il vero pentimento. Colui che ha fede salvifica mostra vero pentimento, confessa i peccati, odia il peccato. Prima amava i peccati, ma nel momento in cui Dio lo salva, lo chiama a salvezza, nel momento in cui ha questa fede salvifica, odia i peccati, mostra vero pentimento, seconda caratteristica, cammina nella luce. Dio è luce e lui desidera camminare nella luce. Lui desidera camminare secondo la volontà di Dio. Un'altra caratteristica distintiva, ubbidienza ai comandamenti. Colui che ha fede salvifica, non semplicemente professa di conoscere Dio e poi vive la sua vita, senza essere parte di una chiesa, non vuole tanto leggere la Bibbia perché è troppo legalistico leggere la Bibbia. Gesù disse, se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Giovanni 15, domani 14, 15. L'ubidienza ai comandamenti, la caratteristica di coloro che hanno fede salvifica. Un'altra caratteristica, desiderano imitare Cristo. Un altro segno è che il credente, colui che ha fede salvifica, desidera imitare Cristo, ama Cristo. Cristo è la sua priorità. Cristo è il suo esempio e vuole imitare Cristo. Un altro segno è l'amore cristiano per i fratelli. Un vero amore genuino. Il credente, colui che ha fede salvifica, ama i fratelli come Cristo ha amato lui. ha questo vero amore. Ha questo amore per la Chiesa. Un altro segno distintivo, la parola di Dio rimane in loro. Colui che crede in Cristo, che ha questa fede salvifica, desidera la parola di Dio. Desidera far sì che la parola di Dio dimori in lui. Vuole crescere nella conoscenza della parola di Dio. Un altro segno distintivo, non ama il mondo. Non ha amore per il mondo. Colui che ha fede salvifica, non ama il mondo, non vuole imitare il mondo. La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita. Non ha alcun amore per il mondo. Vuole essere un testimone in questo mondo. Vuole amare i nemici e il mondo, ma non conformarsi al mondo. Questo è l'amore di cui parla Giovanni, questo amore per il mondo, questo conformarsi al mondo, alle concupiscenze della carne, degli occhi. Colui che ha la fede salvifica, ha conoscenza della verità, ha discernimento spirituale. Riconosce colui che è l'anticristo, che nega la divinità di Cristo, che nega la sua incarnazione. Ha questo discernimento. Colui che ha fede salvifica, fratelli, pratica la giustizia. Desidera praticare la giustizia. Non è semplicemente qualcuno che si siede in un locale di chiesa, poi esce ed è tale quale come prima. Non è questa l'opera di Dio, fratelli. La giustificazione per fede conduce il credente in un cammino di santificazione. Ora sappiamo che non siamo perfetti, siamo mancanti, e riconosciamo ciò, ma desideriamo crescere, desideriamo praticare la giustizia. O il credente, un altro segno, che questa fede salvifica, desidera la santificazione, purificarsi dal peccato. Desidera. Cristo è morto per quei peccati, e lui odia quei peccati, vuole purificarsi di quei peccati. Colui che ha fede salvifica, oltre ad avere questo amore genuino, questo amore biblico, ama con i fatti in verità. Non è l'amore a parole, ma con i fatti in verità. Colui che ha fede salvifica, ascolta la parola, non ascolta il mondo. Ascolta la parola di Dio. Non ascolta il mondo. E poi, colui che ha fede salvifica, ha fiducia per quanto riguarda il giorno del giudizio. Ha questa fiducia per quanto riguarda il giorno del giudizio. Potrebbero esserci dei dubbi, anche in alcuni momenti della vita del credente, ma come affronta quei dubbi? Attraverso la fede in Cristo, attraverso il suo cammino, quando vede Dio operare a lui, quando vede come Dio opera in lui nella sua vita, questi frutti spirituali lo conducono ad avere questa fede nel giorno del giudizio, senza aver timore. Tutto questo conduce il credente ad avere certezze della vita eterna, certezze grazie al fatto che la fede salvifica si manifesta, è visibile. La fede salvifica dei credenti è visibile. È il frutto dell'opera di Dio, di rigenerazione. Questa è la fede, secondo le scritture. Questa è la fede salvifica di cui parla l'Apostolo Paolo. Non c'è nessun vanto. anche nella fede che abbiamo rimesso in Cristo, che abbiamo in Cristo. Nessun vanto, perché è il frutto dell'opera di Dio. Ora possiamo proseguire al versetto 29, dopo questa parentesi importante, perché parlerà di fede costantemente all'Apostolo Paolo. Vogliamo comprendere di quale fede sta parlando. La giustificazione per sola fede non è grazie alle opere, non c'è nessun vanto, anche la fede stessa è il frutto dell'opera di Dio. E poi prosegue al versetto 29 e dice questo. Letteralmente dal testo greco. Oppure Dio è soltanto il Dio dei Giudei? Dopo aver affermato che la giustificazione è per fede non mediante le opere della legge, Paolo qui presenta un'alternativa, ovvero quello che i Giudei pensavano. Che Dio, il Dio, fosse il loro Dio, l'unico loro Dio. Dio è soltanto allora è il Dio dei Giudei? Non è egli anche il Dio degli altri popoli, dei gentili? Certo, Paolo risponde, è anche il Dio degli altri popoli. Paolo vuole mostrare ai Giudei che il Dio, l'unico Dio, è il Dio di tutti. Infatti sapete che i Giudei credevano, i monoteisti credevano che c'era un solo Dio. Ma avevano questa pretesa che Dio fosse solamente il loro Dio e che solo loro erano giustificati grazie alla legge e Paolo dice no, Dio, c'è un solo Dio, un solo Giudice ed è il Dio di tutti i popoli e quindi la giustificazione, la giustificazione è solo per mezzo della fede, dice, Dio giustificherà il circonciso, giudeo, per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. La giustificazione si basa solo sulla fede, solo per mezzo della fede, per tutti, indistintamente. I Giudei pensavano di essere salvati grazie alle opere. Pensate, oggi tutte le religioni insegnano questo. Secondo tutte le religioni se tu fai delle opere puoi essere salvato, puoi piacere a Dio, puoi conservare la salvezza, se la perdi puoi recuperarla, niente ha fatto. La giustificazione è solo per mezzo della fede, per tutti, nessun favoritismo per i Giudei, il vanto escluso. E poi, versetto 31, Paolo termina con questa domanda retorica. Questa è la tipica reazione dei Giudei nei confronti del Vangelo di Paolo. Sentite quello che dice, annulliamo dunque la legge mediante la fede? Paolo, predicando e insegnando che la giustificazione è per fede, portava i Giudei a questa reazione, annulli quindi la legge mediante la fede? Paolo risponde dicendo no di certo, questa forte negazione, no di certo, la fede non annulla la legge. Abbiamo capito che la legge non è stata mai data per giustificare. I Romani 3, 20, Paolo ha detto perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a lui e infatti la legge dà soltanto la conoscenza del peccato. Dio non aveva dato la legge per la salvezza ma per condannare, per mostrare i bisogni della salvezza. La fede non annulla la legge, assolutamente no, anzi, Paolo dice nel testo greco questa forte congiunzione avversativa, ma confermiamo la legge. Paolo dice confermiamo la legge, non annulliamo la legge. cosa significa questo? La fede non annulla la legge, cosa significa? Paolo, capitolo 6, 7, 8, vedremo in futuro, parlerà della santificazione e mostrerà che la fede non annulla la necessità di ubbidire la legge. La salvezza è per grazia mediante la fede ma ciò non significa che il credente non deve ubbidire la legge. La fede non è sinonimo di disubbidienza. Se vi ricordate in Romani 3, 8, quello che i giudei dicevano e calugnarono Paolo, Romani 3, 8, perché non facciamo il male affinché ne venga il bene come è data lui siamo calugniosamente accusati di dire. Lo accusavano di insegnare che la salvezza è perfetta e quindi possiamo anche disubbidire. Non c'è più la legge, possiamo fare quello che vogliamo. No, no, niente affatto. Paolo non insegnava ciò. La fede non è sinonimo di disubbidienza. E ci sono vari versetti. Se andiamo in Romani 6, brevemente, Romani 6, 1. Romani 6, 1. Paolo dirà che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato finché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato come vivremo ancora in esso. Versetto 15. Che faremo dunque? Peccheremo forse perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? No, di certo. La salvezza, la giustificazione è per fede ma ciò non significa che il credente non deve vivere ubidendo. Versetto 12. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortare per ubidire alle sue concupiscenze e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti venti le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Paolo insegnarà in questi capitoli 6, 7, 8 la necessità dell'ubbidienza alla legge. In Romani 8 anche Romani 8 versetto 12 Così dunque fratelli non siamo debitore alla carne per vivere secondo la carne perché se vivete secondo la carne voi morrete ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo voi vivrete infatti tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio. Il credente vive guidato dallo spirito di Dio dallo spirito santo e vive come mettendo a morte le opere del corpo della carne quindi avere fede non significa annullare l'ubbidienza la giustificazione per fede non è una autorizzazione a vivere nella carne e nella disubbidienza no Paolo risponde no non è così la fede non ha nulla la legge la fede è mezzo per ricevere la salvezza ma colui che ha fede in Cristo desidera ubbidire desidera seguire Cristo in questi versetti e così con quelli precedenti per tre domeniche abbiamo visto che Paolo ha presentato il cuore del Vangelo il primo aspetto che abbiamo visto è questo la giustificazione gratuita per la sua grazia dal 21 al 24 la giustificazione gratuita per la sua grazia è un dono immeritato di Dio non è qualcosa che l'uomo guadagna l'unico modo per essere riconciliato è grazie a questo dono il secondo aspetto che abbiamo visto da 25 a 26 la scorsa domenica che questa giustificazione è per medio del suo sacrificio propiziatorio è grazie alla redenzione che in Cristo fratelli è grazie all'iniziativa di Dio Dio il giusto ha preso l'iniziativa e ha provveduto lui stesso al prezzo per pagare il nostro riscatto mandando il suo figliolo Gesù Cristo lui Dio il giusto ha provveduto mediante Gesù un sacrificio per placare l'ira di Dio su di noi verso di noi ed ecco perché è possibile essere giustificati pur essendo ingiusti e poi l'ultima verità che abbiamo visto questa mattina è che la giustificazione è per sola fede per sola fede non c'è nessun vanto nella giustificazione l'uomo non contribuisce alla salvezza ma la riceve per fede e anche questa fede abbiamo visto è un dono di Dio coloro che Dio ha chiamato sono coloro che Dio giustifica questa è la fede come frutto della chiamata di Dio Dio che inizia quest'opera salvifica è Dio colui che la porta a compimento non c'è nessun merito da parte dell'uomo nessun vanto nemmeno la fede che abbiamo rimesso in Cristo nasce da noi stessi non è qualcosa che abbiamo attivato la giustificazione è interamente l'opera di Dio noi siamo i beneficiari di questa grazia per fede nessuno fratelli nessuno potrà mai dire Dio mi ha offerto la salvezza la possibilità di essere salvato ma è comunque grazie alla mia fede che sono stato salvato grazie alla fede che ho attivato nella mia volontà nella mia decisione che Dio poi mi ha salvato nessuno potrà dire questo perché perché Dio non ha semplicemente offerto la salvezza Dio ha iniziato l'opera salvifica e la porterà a compimento la salvezza è un'opera di Dio che ha iniziato e porterà a compimento la fede è la condizione per ricevere questo dono gratuito non per contribuire la salvezza e voglio terminare con un brano con un brano veramente importante che ci aiuta a capire questa salvezza per grazia prima corinzi capitolo 1 prima corinzi capitolo 1 questo brano importante in un contesto particolare molti di voi sanno che qui Paolo mette a luce queste contese che ci sono tra i corinzi sono queste contese versetto 11 12 chi dice io sono di Paolo io d'Apollo io di Cefa io di Cristo ci sono queste divisioni queste contese e in che modo Dio interviene in che modo Paolo interviene sospito dallo Spirito Santo versetto 17 in poi Paolo ricorda il modo in cui i corinzi sono stati salvati non è grazie alla loro sapienza che sono stati salvati ma grazie alla saggezza di Dio infatti versetto 20 dice dove è il sapiente dove lo scriva dove è il contestatore di questo secolo versetto 20 non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i credenti con la pazia della predicazione quindi vuole ricordare in che modo Dio ha salvato i corinzi per mettere a tacere queste contese in che modo Paolo interviene per aiutare i corinzi ad essere uniti ricordando loro in che modo Dio li ha salvati poi al versetto 20 ricorda in modo specifico in che modo Dio li ha salvati la loro vocazione e riferimento alla salvezza versetto 26 fino alla fine ascoltate bene quello che dice qua Paolo infatti fratelli guardate la vostra vocazione alla vostra salvezza non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne né molti potenti né molti nobili ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti Dio ha scelto le cose ignobili del mondo le cose disprezzate anzi le cose che non sono per ridurre al niente le cose che sono perché nessuno si vanti di fronte a Dio e sentite cosa dice poi dopo ed è grazie a lui che voi siete in Cristo che da Dio è stato fatto per noi sapienza giustizia Romani 3 giustizia santificazione e redenzione affinché come scritto chi si vanta si vanti nel Signore ecco perché non c'è nessun manto nella salvezza Dio come Paolo ci mostra ci ha scelto e ha scelto le cose pazze le cose deboli del mondo le cose ignobili le cose che non sono per ridurre a niente le cose che sono e tutto questo perché che nessuno si vanti di fronte a Dio la giustificazione è solo per fede non c'è nessun vanto nessun merito da parte dell'uomo la giustificazione è per sola fede in Cristo non c'è nessun